Problemi a Pescara in provincia per la pioggia che cade ormai ininterrottamente da ieri. Questa mattina i vigili urbani, unitamente alle altre forze dell'ordine, hanno provveduto alla chiusura al transito delle golene nord e sud. Alle 4.30 sono infatti entrati in funzione i semafori con il rosso. Hanno segnalato il pericolo. Il fiume Pescara nella notte si è ulteriormente gonfiato, costringendo così le autorità a predisporre il provvedimento di chiusura. Sempre a causa della pioggia, problemi per allagamenti in Viale Marconi, da via Mazzarino fino all'incrocio con Viale Pineta, via Davalos e via Pepe. Problemi per gli allagamenti anche nel quartiere San Donato, nella zona di via Tirino. Numerose le chiamate giunte al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco. A spoltore il sindaco Luciano Dilorito ha istituito il COC, centro operativo comunale, presso la sede di Palazzo di Città, in seguito anche al peggioramento delle condizioni meteo previsto per la giornata odierna e comunicato dal centro funzionale della protezione civile. È in corso anche l'operazione di sgombero delle vie e aree soggette a rischio allagamenti di via Arno, via Mincio, via Livenza e via Le Abruzzo delle autovetture parcheggiate. Forze dell'ordine impegnate anche nel Pescarese, soprattutto in Val Pescara dove ieri sera è esondato per un breve tratto il fiume Orta alla confluenza con il Pescara. Disaggi anche a Francavilla dove il fiume Alento è a destare le maggiori preoccupazioni con il corso d'acqua, già straripato a San Salvatore e Torrevecchia. Disaggi anche allagamenti lungo la strada statale 16 e nelle zone centrali e lungo i sottopassi di via Pola e via della Rinascita. Preoccupazione anche nell'area vestina, in particolare fra Villa Celiera e Civitella Casanova colpite nelle settimane scorse da due vasti movimenti franosi e a Villa Celiera come ha riferito il sindaco Reste Di Lorenzo. Questa mattina si è verificato uno smottamento in contrada San Sebastiano che ha causato l'interruzione della strada proprio nella frazione di ingresso al paese. Ieri si era invece verificato un altro smottamento in contrada Santa Maria, sempre alle porte del paese, che aveva causato disagi a cinque famiglie che da 24 ore sono senza acqua.